In quarantena mi sono mancati i miei compagni, i professori, soprattutto affrontare le lezioni a volte difficili e pesanti insieme a loro, aiutarsi nei momenti di stress ma anche godersi insieme gli intervalli e le risate. In generale mi è mancata la routine di tutti i giorni. Giocare con i miei compagni, stare fuori con gli amici e giocare. Mancava Arturo e il mio fidanzato. A divertirmi con i miei compagni, con i miei amici e invitarli a casa. Le mie amiche per il ballo, andare a far da mangiare per il paese, tutte le mangiate insieme alle amiche. E poi la mia famiglia che veniva a mangiare alla domenica. E i miei nipoti che erano fuori l'estero. Restate a casa. Abbiamo sentito spessissimo queste parole durante il lockdown. Costretti a stare chiusi nelle nostre case, tra le nostre quattro Muram, separati dal resto del mondo, ma allo stesso tempo invitati da questa crisi ad essere più aperti del solito verso il nostro prossimo. In questo tempo abbiamo capito quanto è importante il don della famiglia. A presto, a presto. Grazie per la visione! Grazie a tutti!